3, 2, 1 e Bertolotto è arrivato a Roma! Come andiamo? Tutto bene? Buonasera! Tiene lei quella a fare lì? Lo tengo io qua! Lo tengo anche io eh! Allora non abbiamo qui né la banda né il sindaco ad accoglierla ma ci siamo noi! Guai 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 guai! Io sono Cunesa Rum come voi sapete! Intanto la ringrazio che è venuto a aspettarmi qua che è stata una bella sorpresa! Tra poco ci vedremo anche in studio ma non potevo mancare qua oggi! Era una promessa e l'ho rispettato! Era una sorpresa qua a grande Ponte Emilio alla base della Cassia! Stiriamo verso Ponte Emilio! È una delle strade più vecchie di Roma eh! Eh sì! Com'è l'accoglienza di Roma? Vabbè adesso è appena arrivato adesso faremo un po' un giro qui tra i bar e i negozi eh! Ma qualcosa ho già ho già incontrato per la strada eh soltanto una signora mi ha fatto solo così segno con la mano e l'ho capita perché io a Roma vengo sovente e la gente è già molto disturbata e allora anch'io ho un po' timore a fermarmi con la gente ma poi dopo vedo che forse mi vedono vestito così capiscono che sono uno che non vuol vendere niente via! Lei questa settimana cercherà di sedere sempre detto al tavolo del governo con qualcuno che ascolti anche le sue proposte idee non solo lamentele di un imprenditore che di lamentele ne avrebbe credo in confronti dello Stato! Certo ma bisogna smetterla con le lamentere e arrivare con le proposte io questa settimana porterò a chi mi da a chi mi apre la porta porta aperta per chi porta dicono no? Chi non porta parta pur che non importa apri la porta io porto e cerco di portare delle cose che servono e spero di trovare gente che me l'apre la porta! E' il condensato di ciò che ho sentito in questi tre mesi di camminata ciò che porto ed è una gran volontà di tutti di cambiare un grande cambiamento ma radicale sono tutti anche molto disposti a cambiare in se stessi perché tutti hanno capito che un pezzo di colpa ce l'abbiamo tutti di come siamo finiti perché dico come siamo finiti non dove stiamo andando siamo già arrivati signori miei siamo al fondo del barile dobbiamo ritirarci su! Grazie a tutti!